Lo stile esprime la visione estetica di una persona, ne rileva il carattere anche perché è spesso e volentieri inconsapevole, quindi rileva il carattere della persona. L'unico aspetto che posso riconoscere è di essere un po' eclettico, mi piace fare varie cose diverse o vari interessi diversi che non combaciano fra di loro spesso. I miei figli hanno la priorità assoluta anche su me stesso, il mio lavoro di imprenditore, sicuramente le donne del terzo, che spesso e volentieri può diventare il primo. La passione è quello che spinge a fare le cose, superando e non fermandosi davanti alle difficoltà, questa è la prima definizione che darei della passione. Nella mia vita ne ho avute tanti campi totalmente diversi, a cominciare da quello della fotografia che cominciai quando ero molto giovane, tutto questo forse la mia passione maggiore è il lavoro che faccio, un imprenditore che mi piace molto fare, che lavoro in un'azienda di famiglia da trent'anni. Molto orgoglioso di essere italiano, trovo che l'italianità è fondamentale sostenerla, in particolar modo all'estero. Il carisma secondo me è totalmente naturale, è il modo di proporsi agli altri o per l'intelligenza, per la creatività, per il modo di porci anche dall'aspetto fisico, spesso e volentieri, però sicuramente è una cosa naturale, non è gestibile, sia o non sia.